Cosa pensi? Per sistemarsi non è facile, mi sembra. Qui c'è i numeri e poi... Penso che se uno viene al porto e, come si dice, cerca qualcosa di speciale. Vale bene, però... No, non so come spiegarmi. L'acquario, per esempio. Allora, è facile trovare, però soltanto per camminare un po', sistemarsi. Per me ci sono troppi immagini. I think it would be helpful to have the name of the roads going this way, because I wouldn't know where that was in relation to anything else. Ok? credo che questo sia buono, credo che questo sia utile questo è dove la maggior parte delle attraccioni la maggior parte dei numeri se potessi riuscire a una scala più grande o qualcosa non mi sembra che la rivolta ai turisti, sembra dei clienti industriali non è vero, guarda qua, la parte è bene che altro? vabbè, bisognerebbe fare il riferimento sì, forse non è spiegato quello che loro possono vedere e quello che non possono vedere penso di sì, nel senso che sono segnalate le cose più interessanti di Genova a livello di Porto e della parte tutta costiera sì, secondo me è abbastanza chiaro